Dall'avamo a casa tutti che sei qua, Dio mio. Ciao, ciao. Io vorrei tenere che ti sceglie. Sì, va bene. Fa che mociosa. Giovanotto, hai una bella voce. Signor. Ma perché piange quell'altro? No, signor. Sì, fai. Scusi, io posso? Sì, va bene. Buonasera, famiglia Caribaldi. Sì, famiglia Caribaldi, vi abbiamo già dato un sacco di soldi. Siamo facendo questo. Sì, ho capito, vi abbiamo già dato un sacco di soldi. Ogni volta che ho passato, cittofonato, non si può fare. Ma noi ci serve dei soldi, ha fatto un bel cappello, ma fa funzione. Voi lo sapete? Con tutto il rispetto, la maronna, bel cappello e fa funzione. Troppi soldi costano queste feste. Ma voi lo sapete che Pasqua si avvicina? Ehi, avete i pozzerini? Ehi, stattati. Sì, fai. Ma perché non mi fa... Che, un telefono, ma? Il telefonino? Ehi, stattati. Ehi, chi è? Ehi, fai. No, no, ma voi siete pazzi, non capisco. A vero, chi sei... Ehi, manchi, posso parlare? Vabbè, basta che ve l'andate. A voi ci voglio dire, ma per i soldi. Allora, passate da Vittorio, qua, sul portiere. Vittorio e il portiere? Sì, vi lascio altre... Somma? Vi lascio altre 20.000 lire. Vedi, 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 vedi. Vabbè. Allora, siamo pronti? Siete pronti? Non passate più, però. Non passate più, però. Vabbè, 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 vabbè. Vabbè, 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 v